E la preside questa mattina anche i nostri microfoni ha annunciato provvedimenti severi. Convocheremo i consigli di classe, delle classi incriminate, che sono due prime, e deciderà dei provvedimenti. In modo tale che si dia un segnale all'intera comunità per far capire che se si sbaglia si paga. Preside che i nostri microfoni conferma tutti i fatti. Gli studenti hanno bevuto, hanno esagerato, una in particolare, questa ragazzina. Il servizio d'ordine degli studenti ovviamente non ha funzionato, è logico. C'erano degli insegnanti, ma erano pochi e non si sono accorti di questa obbriacatura. I ragazzi, i compagni di classe e altri ragazzini l'hanno bullizzata. L'abbiamo soccorsa rapidamente, dice un rappresentante dell'istituto. Appena il servizio d'ordine mi ha messo al corrente della vicenda, mi sono fiondato fuori per cercare di risolvere al meglio la situazione. Il fatto che ci fosse la birra, l'alcol. Tutto ciò è avvenuto all'esterno dell'assemblea. A parte che l'assemblea non gliene do più neanche se piangono cinese, prima cosa, comunque è una necessità farle al di fuori. Un'assemblea che incredibilmente aveva come tema il contrasto al bullismo. Davvero, questo è il paradosso. Uno dei temi dell'assemblea era il bullismo. Ti rendi conto? E la preside ai nostri microfoni focalizza, che è ormai da più piccoli dell'istituto, che si scatenano complicazioni. In prima arriva di tutto. Quindi hanno proprio sbagliato posto per fare quello che vogliono. Perché qui quello si vuole, un si fa. Grazie. Grazie a tutti.